Rise of the Tomb Raider è tutto quello che era il reboot di Tomb Raider del 2013, ma tutto fatto molto meglio. La nuova Lara Croft è sempre più carismatica e credibile, le fasi di esplorazioni sono più ampie, le fasi action sono più spettacolari, lo stealth è fatto meglio, è stato inserito un meccanismo di crafting più sofisticato e la crescita del personaggio è stata affinata. Gli enigmi appaiono meno telefonati rispetto al reboot, ma comunque sono distanti dalla difficoltà degli enigmi storici dei premissimi Tomb Raider. Sicuramente i nuovi Tomb Raider presentano uno stacconetto rispetto al passato, ma questo non significa che non siano altrettanto fruibili, anzi, insomma un bilancio più che positivo ed un gioco da tenere in considerazione se si apprezzano gli action con una forte connotazione cinematografica.